Il santo del giorno è San Martino di Tours, figlio di un ufficiale dell'esercito romano, si arruola a sua volta nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia. È in quest'epoca che si colloca l'episodio di Martino a cavallo, che con la spada taglia in due il suo mantello militare per difendere un mendicante dal freddo. Auguri a tutti Martino e le Martine all'ascolto. Noi diamo la linea a Lorem Ipsum, ci vediamo subito dopo e come sempre vi auguriamo buona televisione.